francesi contro sacro romano impero non è classificato lui vediamo un po devo scautare tutte le reliquie e difenderle perché se le prende cazzi amari andiamo a esplorare un po allora otto sul cibo ho fatto la casa tardi non sarà passato di qua vado che? psst ok 4 sull'oro allora rifer qui ah c'è qui che c'è? che c'è? vado cavallo escoltor che c'è? che c'è? bene Ok, devo riportare queste pecore prima che si finiscano. Non ne mancano tante. Casa? Sì, sì... Ecco, sei al fatto di come, questo è il nostro paese. El mio cuore è il suo tratamento, di aiutare i minuti. No, non è tutto il nostro paese. Sì... Il mio cuore è il suo tratamento. Si. Ha questo fatto! Il mio cuore è il nostro paese,覺得 che ero! Si! Grazie. Ok, iniziamo a fare anche la pietra per il secondo centro città. Grazie. Grazie. no 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 Perfetto per l'amore. 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 Ah. Ah. Ok. Ok. Ok.